Sono 68 gli studenti e 3 gli istituti scolastici coinvolti in un provvedimento da quarantena per il Covid. Risultato infatti positivo l'autista di uno scuolabus. L'autista regolarmente vaccinato in possesso di Green Pass avrebbe effettuato un tampone perché un familiare aveva sintomi simili all'influenza. Da qui la mara scoperta di avere il Covid e l'immediata segnalazione al comune di competenza, in questo caso Civitella in Valdichiana. Siamo venuti a conoscenza nella giornata di domenica che un autista di una società esterna che ci fa il servizio di scuolabus, un autista vaccinato, è risultato positivo al Covid. E quindi sono partite tutte quelle che sono le procedure per andare ad individuare quelli che sono i ragazzi che nell'ultima settimana avevano avuto contatto con quest'autista. Quanti sono i ragazzi che sono stati comunicati al servizio igiene dell'Asle che quindi sono finiti in quarantena? Allora, i ragazzi sono 68 e sono ragazzi della scuola materna, della scuola primaria e della scuola secondaria perché l'autista faceva dei giri abbastanza variegati. Che cosa succede in questi casi? I ragazzi devono comunque osservare gli otto giorni, diciamo, canonici? I ragazzi osserveranno quelli che sono gli otto giorni perché noi abbiamo comunicato all'Asle l'ultimo giorno di contatto con i ragazzi che hanno avuto con l'autista. Ora stiamo facendo degli ulteriori accertamenti con la scuola e stiamo analizzando anche attraverso l'autista la durata dei percorsi per capire se possiamo liberare qualche ragazzo che ha avuto contatto con l'autista per un periodo di tempo inferiore ai 15 minuti. Ecco, la regola per cui si finisce in quarantena, in questo caso per il trasporto scolastico, è rimasta quella del 2020? La regola è quella del 2020, quindi un contatto con una persona ad una distanza inferiore a due metri per un periodo superiore ai 15 minuti. Quanti possono essere i ragazzi che magari possono essere liberati da questa quarantena? I ragazzi che possono essere liberati dalla quarantena possono essere in circa 6-7 ragazzi. Stiamo facendo con gli uffici l'approfondimento.